Si terrà giovedì 18 e venerdì 19 settembre a Palazzo Badini in Piazzetta Cavour il seminario intitolato Mobilità Dolce, uno strumento di riqualificazione per rendere viva la città e il suo territorio che il Comune di Pordenone organizza nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità. Le due giornate sono rivolte a tutti i cittadini e rappresentano un momento di condivisione e partecipazione nell'ambito della predisposizione del piano urbano della mobilità in cui il Comune di Pordenone è attualmente impegnato. L'assessore comunale Bruno Zille. Nel seminario della due giorni noi parleremo della mobilità dolce. La mobilità dolce significa un insieme di attività per quanto riguarda la mobilità sia per quanto riguarda il muoversi dal punto di vista pedonale sia dal punto di vista ciclabile ma significa anche una modalità di movimento per quanto riguarda la moderazione del traffico. Ecco questi sono gli elementi diciamo più salienti assieme alla sicurezza stradale che verranno trattati appunto in questo seminario. Saranno presenti relatori di carattere nazionale e soprattutto saranno portate in quel tavolo le esperienze, le migliori esperienze, le migliori pratiche che abbiamo in varie realtà italiane. Il convegno è rivolto prevalentemente a tutti i cittadini. Chiaramente poi ci sarà una partecipazione anche da parte di professionisti, operatori per quanto riguarda nel mondo della mobilità ma anche nel mondo ovviamente della pianificazione, dell'urbanistica. Quindi un'occasione importante di partecipazione e di crescita, di dibattito e di confronto. Grazie a tutti.